E quindi esisteva un Marvel Cinematic Universe prima del Marvel Cinematic Universe. Amici di EvryEye.it e di EvryEye Plus, bentornati qui sul nostro canale YouTube dedicato al mondo del cinema, delle serie TV, degli anime e dei fumetti. Oggi vorrei parlare con voi e commentare una notizia emersa in questi ultimi giorni. Prima però lasciatemi chiedere una cosa. Volete rimanere sempre aggiornati sulla produzione video di EvryEye Plus e di tutto ciò che concerne il cinema e le serie TV e gli anime e i fumetti su EvryEye.it? Allora dovete assolutamente iscrivervi sul nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati ovviamente su tutti i nostri ultimi contenuti. Fatte le dovute premesse dunque arriviamo a parlare di quella che è un po' la notizia del momento. Qualche ora fa un insider ha pubblicato in rete un'immagine abbastanza peculiare, ovvero una sorta di infografica che definiva la schedule dei film Marvel a cavallo più o meno dell'inizio degli anni 2000, quindi tra il 2000 e il 2005-2006. In quegli anni come sappiamo bene non c'era il Marvel Cinematic Universe come lo intendiamo oggi, non c'era quell'impero commerciale mediatico fondato sull'intrattenimento supereroistico a cui Disney ha dato poi vita già nel 2007 con l'incredibile Hulk e che ha poi concretizzato nel 2008 con il primo film di Iron Man con Robert Downey Jr. che ha di fatto iniziato, ha spianato la strada al progetto Avengers. Con ciò però non dobbiamo commettere l'errore di pensare che i Marvel Studios prima del 2007-2008 fossero totalmente inattivi. Sappiamo per esempio che alla produzione dello Spider-Man di Sam Raimi c'era Kevin Feige, con una divisione abbastanza embrionale, diciamo così, dei Marvel Studios. Proprio in quegli anni uscivano al cinema non soltanto Spider-Man di Sam Raimi, ma uscivano gli X-Men, usciva l'adattamento cinematografico tanto discusso, tanto odiato dai fan, ovvero Daredevil con Ben Affleck, e poi uscivano The Punisher, uscivano i Fantastici Quattro, e proprio sulla base di questo universo condiviso, diciamo in qualche modo, embrionale, che poi in larga parte si rifaceva alle produzioni, alle AP di casa Sony, pensare a Spider-Man, o di casa Fox, pensare appunto a tutto il percorso degli X-Men e dei Fantastici Quattro, perché ovviamente non c'era ancora l'incursione di Disney proprio all'interno dell'AP Marvel. Andando a vedere quelli che erano i film schedulati, diciamo così, a cavallo tra il 2004, 2005 e il 2006, ritroviamo alcuni titoli che conosciamo già, ad esempio The Punisher, ad esempio Elektra, ad esempio i Fantastici Quattro, ad esempio il terzo capitolo degli X-Men, o addirittura un film su Iron Man inizialmente previsto, se non sbaglio, per il 2005. È chiaro che poi in corsa i piani sono cambiati molto, alcune produzioni le abbiamo viste nascere sul grande schermo, come vi dicevo i Fantastici Quattro e tutti gli altri. Mentre invece per quanto riguarda altri progetti, alcuni non hanno proprio mai visto la luce, sono diventati a tutti gli effetti dei film perduti dalla Marvel, dei film dimenticati, di cui ad oggi tuttora non sappiamo ancora il destino. Altri si sono poi trasformati nei primi progetti del Marvel Cinematic Universe vero e proprio come lo conosciamo oggi. Tra questi, per esempio, c'era uno spin-off su Silver Surfer, probabilmente lo stesso Silver Surfer che poi avremmo visto nel sequel dei Fantastici Quattro. Tra questi c'erano addirittura prodotti molto di nicchia, penso a Manthing, alla stessa Electra, che poi sì, ha visto la luce e sappiamo tutti, purtroppo, che fine ha fatto. Per quanto riguarda gli altri progetti, è interessante vedere come, subito dopo il 2005, fossero previsti già dei primi adattamenti di Iron Man, ma anche di Captain America. È anche carino notare come Captain America avesse un font molto diverso da quello che poi è diventato il suo logo all'interno del Marvel Cinematic Universe. Questo, secondo me, ci fa capire una cosa molto importante. Ad esempio, ecco, quasi mi passava di mente uno stand-alone incentrato su Nick Fury. Sappiamo bene che Nick Fury ha avuto già il suo adattamento, diciamo, negli anni 90, con David Hasselhoff a interpretare, appunto, il leader dello S.H.I.E.L.D. nel film Nick Fury, agente dello S.H.I.E.L.D. Sappiamo anche bene che poi l'iconografia di Nick Fury è stata plasmata da Samuel L. Jackson, che gli ha dato una forma più concreta e anche più amata dai fan, appunto, già a partire dal finale del primo Iron Man. C'era però anche un progetto su Nick Fury. È molto probabile, diciamo così, che alcuni di questi progetti in questione si siano nel tempo trasformati in idee anche molto recenti che abbiamo visto nell'MCU. Basti pensare al fatto che Nick Fury è stato per tanto tempo un comprimario della saga degli Avengers e di tutto il filone della saga dell'Infinito, ma che proprio di questi tempi sarà protagonista, insomma, di una serie che lo vedrà al centro della narrazione, ovvero Secret Invasion, in cui rivedremo appunto Samuel L. Jackson vestire nuovamente i panni di Fury. Mi sembra abbastanza chiaro che da questa schedule, che includeva sia progetti a lungo termine, in questa schedule era presente ad esempio Spider-Man 3, erano presenti, come già detto, i Fantastici 4, The Punisher, Electra, film che già conosciamo, ma erano presenti anche progetti che poi non hanno più visto la luce. Mi sembra abbastanza chiaro che all'epoca la Marvel, per quanto riguardava gli adattamenti cinematografici, navigassi un po' a vista della serie. Ovviamente non c'erano i social network, soprattutto per come li conosciamo oggi, il web era molto meno esplorato, c'era meno occasione per dar voce, in qualche modo, ai fan che potevano esprimere da loro e potevano anche, in qualche modo, dettare i trend del momento. Io sospetto che all'epoca la Marvel, o meglio, la divisione predisposta agli adattamenti cinematografici e televisivi dell'EP Marvel, non solo navigassi un po' a vista, ma tenesse un po' d'occhio quelli che erano i trend fumettistici del momento, della serie. Questo personaggio, questa run, questa serie fumettistica sta andando molto bene, i fan la amano particolarmente, forse è il caso di dedicargli un adattamento cinematografico. Non mi spiegherei, altrimenti, la produzione di film anche molto, tra virgolette, discutibili da un punto di vista mediatico, come Electra, come lo stesso Blade, come Manthing, come Silver Surfer, come addirittura Namor, che è un personaggio che tutt'oggi non ha mai visto la luce nel Marvel Cinematic Universe, né in nessun altro adattamento filmico o televisivo a stampo Marvel, ma che è sempre stata una figura di spicco nei fumetti Marvel, e infatti un progetto in solitare su Namor era tra i piani di quegli anni, insomma, di questo report emerso nelle ultime ore sul web. Significa, appunto, che la Marvel seguiva quelle che erano le preferenze del pubblico all'epoca all'interno dei fumetti e di conseguenza sviluppava anche un'IP cinematografica o televisiva. Oggi, ovviamente, è molto diverso, si guarda il gradimento del pubblico basandosi su altri parametri, anche e soprattutto perché quella enorme macchina, quella enorme operazione, che è oggi il Marvel Cinematic Universe, ha preso una strada anche abbastanza differente dai fumetti, mi verrebbe da dire, influenzando a sua volta il materiale originale, una cosa abbastanza rivoluzionale, su cui abbiamo discusso tante volte anche su questi canali, o comunque sugli altri canali relativi a ebriai.it. Detto questo, fateci sapere che cosa ne pensate, fateci sapere se avreste voluto vedere qualcuno dei progetti che poi non hanno mai visto la luce e quali di essi, attualmente, vedreste bene all'interno del Marvel Cinematic Universe per come le conosciamo oggi. Ovviamente ricordatevi di lasciarci un like se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarci un commento qui sotto per dirci la vostra su questa notizia e in generale su che cosa ne pensate in relazione a questi progetti. Detto questo, io vi saluto e ciao!